Benvenuto nel nostro ente Enri Parma, io sono la coordinatrice del corso per operatore meccanico IFP. Se desideri imparare una professione che si adatti ai tuoi interessi senza intraprendere un percorso di studi lungo, se ti piacciono le materie pratiche, se vuoi acquisire competenze specifiche del settore tramite laboratorio di officina oppure la formazione dell'azienda, questi sono i corsi adatti per te. Questo corso dura solo due anni, al termine dei quali conseguirai una qualifica professionale che consentirà di entrare rapidamente nel mondo del lavoro e attraverso gli stage che svolgerai nell'arco dei due anni potrai venire a contatto con le aziende del territorio e del settore e quindi avere più possibilità alla fine della qualifica di poter inserirti nel mondo del lavoro. Invece se vuoi intraprendere un percorso scolastico puoi proseguire negli istituti tecnici o professionali di Stato per ottenere un diploma di maturità oppure puoi frequentare un quarto anno della formazione professionale per ottenere un diploma professionale. Sono docente di ufficina meccanica, derivo dal mondo del lavoro. Nella nostra scuola potrete imparare le lavorazioni da banco come limatura e foratura di particolari meccanici, con l'ausilio delle macchine utensili a CNC come il tornio e la fresa e il saldatrice, imparare a comporre particolari composti di meccanica che potrete montare e comporre in un progetto finale. Ma la cosa più importante è farvi amare la meccanica e darvi le competenze in questo biegno per raggiungere il mondo del lavoro con serietà e professionalità. Sono il docente di tecnologia meccanica e disegno, mi trovo in questo ente da molti anni. I ragazzi imparano a disegnare un pezzo meccanico, imparano a saperlo leggere, nello stesso tempo lo riproducono nelle macchine utensili, imparano a conoscere anche il calibro, il micrometro, il comparatore, eccetera, cioè i principali strumenti di misura che loro adottano. Nello stesso tempo imparano a fare un foglio di lavoro e sicuramente saranno dei ragazzi prossimi a poter lavorare nelle industrie meccaniche.